Prima di tutto un doveroso ringraziamento a Chianti Banca che ci ospita qui stamani. Con la Banca abbiamo un rapporto ultradecennale, è assolutamente positivo e di questo devo ringraziare tutta la sua struttura, il Presidente, il Direttore. Passando alla parte della presentazione del nostro nuovo allenatore, oggi aggiungiamo un tassello molto importante di quella che sarà la squadra per la stagione 2019-2020. Michele Carrea è un allenatore giovane, che ha fatto tante gavette e tanti anni fa il coach a giro per l'Italia. Siamo molto contenti di aver potuto stringere con lui un rapporto biennale. Michele ha tutte le caratteristiche dell'allenatore che cercavo, che è un allenatore giovane, determinato, competente e soprattutto un uomo di palestra. Intendo che un allenatore che piace stare tante ore, passare tante ore in palestra con i suoi ragazzi, formare i giocatori, formare un'identità, dare un'identità ai giocatori, migliorarli, eccetera. È un lungo percorso, non è un gestore più un uomo di palestra. Queste sono le caratteristiche che per me sono determinanti e che cercavo in un allenatore. Dico solo poche cose perché penso che poi sia più utile rispondere alle vostre curiosità. Io dico solo che per me è chiaramente un piacere essere qui, è un piacere essere stato scelto per la seconda volta da San Bugaro ed è un piacere che questa scelta sia stata condivisa da un club che ha questo prestigio e un vissuto fatto di tanti allenatori importanti e di qualità. Quindi vengo qua convinto di poter fare bene, vengo qua convinto di avere tanto lavoro da fare e credo che questo sia il mio ruolo soprattutto in questa fase, lavorare. Quindi non spenderò troppe parole, non farò proclami, non guarderò a dopo domani perché penso che il mio mestiere sia guardare a oggi con un occhietto massimo a quello che può succedere domani mattina ma con i piccoli passi cerchiamo di costruire qualcosa che abbia un senso e che dia energia alla gente che ama il basket in questa città. Io ho sempre allenato la pallacanestro dal settore giovanile al senior con l'idea che a fianco allo sviluppo di una squadra sia fondamentale produrre uno sviluppo degli individui, dei giocatori da un punto di vista tecnico e se possibile umano e questa cosa è mio desiderio produrla anche in questa dimensione. È chiaro che è una sfida, sarà preoccupazione mia e di Sambu valutare la motivazione dei giocatori ad aderire a un progetto che ha questo come postulato, quindi qui si viene a lavorare, qui si viene disposti a sudare e qui non si viene ad aspettare che arrivi la domenica la partita. Lavorare significa che questa è la fase delle scelte, le scelte saranno quelle che produrranno una stagione di un tipo o di un altro, vanno fatte nel modo giusto, vanno calibrate e per farle nel modo giusto bisogna spendere il tempo nell'analisi, nella riflessione e nella condivisione di tutti quelli che sono i materiali a disposizione. Credo che da questo punto di vista, soprattutto quando si deve fare un mercato senza comandarlo, bisogna essere disponibili, quindi io credo che da questo punto di vista con Sambugaro sa che ha la mia disponibilità ad allenare i giocatori che riusciremo a prendere e non sono i giocatori che devono adeguarsi a me, ma sono io che devo adeguarmi ai giocatori. E' chiaro che cercheremo di dare un indirizzo e l'indirizzo è che vogliamo una squadra che non aspetti, quindi una squadra che aggredisca. L'input è che voglio giocatori che siano disposti a prendere iniziativa in difesa, ad essere aggressivi, a cercare di non aspettare. Questo quando non si ha la palla in mano, perché poi penso che questo sia l'elemento chiave. Con la palla in mano ci sono quelli più bravi e quelli meno bravi, senza palla in mano è solo un discorso di voglia, di energia e di disponibilità. Ecco, questa disponibilità ci dovrà essere in tutti i componenti del nostro.